Assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca, come mai ancora un tavolo per l'automotive convocato qui a la testa? Intanto perché era necessario aggiornarci rispetto al tavolo che abbiamo tenuto a Teramo a luglio. Nel frattempo vi sono state delle evoluzioni sia normative ma anche di consapevolezza, chiamiamole così, a livello europeo, il rapporto Draghi, il grande successo del parere di cui si è fatto portavoce il nostro Presidente in seno al Comitato Europeo delle Regioni che riguarda soprattutto l'automotive e la transizione giusta e poi fare conti con quello che sta accadendo in Italia e soprattutto nel territorio abruzzese con una particolare focalizzazione sulla Val di Sangro dove insiste lo stabilimento più grande d'Europa per i veicoli commerciali. Quindi facciamo il punto tutti assieme in una logica di alleanza per tentare di analizzare i temi e per trovare insieme delle soluzioni in un tempo di grande cambiamento e ce ne rendiamo conto mano a mano che i cambiamenti accadono. Dobbiamo rivoluzionare il nostro modello culturale sulla formazione, sul lavoro e il nostro sistema produttivo. Questa è una condizione indispensabile per tornare a crescere. Il Sindaco Giulio Borrelli è tornato sul tema infrastrutture e la Regione in questo campo può fare molto. Una parte delle responsabilità per rendere veramente competitiva questa zona industriale e in generale diciamo tutte le nostre zone industriali spetta alla Regione per quanto riguarda innanzitutto le infrastrutture. L'interporto a che punto è? Io penso che le risorse stanziate finora non siano sufficienti. Ci sono altre risorse del PNRR che secondo me vanno messe per l'interporto per migliorare e finire la ferrovia di Saletti. Per l'approvvigionamento e il costo dell'energia che è una delle questioni essenziali. Sevele sta provvedendo per conto suo con uno stabilimento biogas che vuol mettere per la produzione del 20% il suo fabbisogno, non è giusto. Deve provvedere il pubblico all'approvvigionamento e al costo dell'energia. Ma non solo questo, la Regione è anche responsabile dei servizi e della manutenzione delle aree industriali, della Val di Sangro che è in condizioni disastrose ma anche di tutte le aree industriali. Qui oggi si è insediato un commissario, io non sono critico a priori nei confronti del commissario, tutt'altro... Sto parlando dell'Arap? La regionale delle attività produttive, l'Arap, oggi ha insediato un nuovo commissario, qualcuno ha criticato questa decisione, io non sono un critico tutt'altro ma voglio vedere se risolverà i problemi e come li risolverà. Tra i sindacati presente anche l'UGL che in una conferenza stampa a margine del tavolo regionale ha espresso le sue preoccupazioni su Stellantis e la Cassa Integrazione. Sentiamo Giuseppe Saraceni. Siamo molto preoccupati per quanto riguarda l'automotivo in generale ma più che altro siamo preoccupati per Stellantis perché c'è la Cassa Integrazione ormai che crediamo che avverrà almeno fino alla metà di novembre però crediamo che fino alla fine dell'anno andrà su quest'antazzo qui. Speriamo di avere un incontro con Stellantis subito per poi fare voce con il governo e con tutti gli attori principali per risolvere questo problema con la speranza che si arrivi a un quadro ben definito della situazione.